Ciao a tutti, oggi prepareremo le meringhe dorate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 75 minuti circa. Gli ingredienti sono albumi di uovo, zucchero e coloranti in polvere per gli alimenti. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo polverizzando lo zucchero. Mettiamo lo zucchero all'interno del boccale e lo polverizziamo per 40 secondi a velocità a 10. Prendiamo un po' sul fondo lo zucchero. Adesso andiamo ad aggiungere la ricetta. i nostri albumi. Inseriamo la farfalla e fociamo il tutto per 10 minuti, 37 gradi, velocità 2. lasciamo riposare per 5 minuti i nostri albumi che già sono ben montati all'interno del boccale. dopo aver fatto riposare il nostro composto per circa 5 minuti aggiungiamo il colorante in polvere. continuiamo a far montare il composto per 5 minuti a 37 gradi, velocità 2. il nostro composto è pronto. Adesso andiamo a riempire una sac à poche e a formare i nostri ciulpetti sopra la teglia rivestita da carta da forno. le nostre meringhe sono pronte per essere messe in forno a temperatura di 120 gradi per i primi 10 minuti, successivamente abbassiamo la temperatura a 100 gradi per i restanti 50 minuti. e alla prossima ricetta! e alla prossima ricetta! e alla prossima ricetta! e alla prossima ricetta!